Oggi voglio portarvi con me a scoprire un po' del mio mondo. Sveglia ore 8, tappa velocissima in frigorifero e inizio a prepararmi. Come outfit ho scelto una camicia bianca ed un jeans corto. Subito tre rigorose spruzzate del mio profumo e sono pronto per partire. Oggi in direzione Terni. Verso le 9 arrivo in ufficio e mi metto subito al computer ad analizzare alcuni dati della nostra azienda. Verso mezzogiorno e mezza arrivo in uno dei nostri punti vendita a Terni e lì trovo come sempre mia nonna, 81 anni ed è sempre in prima linea. Giro alcuni video che presto scoprirete e verso le 6 e mezza torno a casa. Mi cambio, total outfit Nike e vado in palestra ma la trovo chiusa e quindi opto per un po' di corpo libero all'aria aperta. Tornata a casa, doccia fredda, pronto per una serata in completo relax. Chiudiamo oggi in maniera un po' inusuale con Samira Lui. La vediamo poco ultimamente perché è molto molto impegnata con le sue cose ma sempre è stato sfere con questa ragazza. Ciao!